Il principe Ferri e il principe Andrea sono apparsi l'ultima volta al Cenotafio la Domenica della Memoria nel 2019, prima di ritirarsi dalla vita reale. Oggi, nella Domenica della Memoria, la famiglia reale si riunirà al Cenotafio nel centro di Londra per rendere omaggio a coloro che hanno dato la vita per il loro paese. I membri più anziani della famiglia reale, tradizionalmente depongono Ghirlande. Tuttavia quelle precedentemente deposte dai membri della famiglia caduti in disgrazia, il principe Ferri e il principe Andrea, sono state tolte dal posizione dalla fabbrica che le crea l'anno scorso. La Poppy Factory è stata fondata cento anni fa, con varie Ghirlande deposte dall'azienda lasciate in mostra ai visitatori, ma quelle deposte da Ferri e suo zio Andrew non sono più disponibili. A partire dall'anno scorso le corone sono state rimosse. Nonostante la coppia avesse prestato servizio militare, Ferri in Afghanistan, e Andrew nella guerra delle Falkland con la Royal Navy, una fonte presso il sito di Richmond, a sud-ovest di Londra, ha detto al Mirror, Ferri aveva la sua Ghirlanda in mostra nella vecchia area espositiva del centro, ma non lo è più. Ce ne siamo sbarazzati e anche tutti i duplicati che abbiamo conservato. Le corone di altri membri senior dell'azienda, come il re Carlo, la defunta regina Elisabetta e il principe Filippo, la principessa Anna e i principi William ed Edoardo, sono ancora in mostra nella fabbrica. La Poppy Factory e Buckingham Palace hanno rifiutato di commentare cosa sia successo alla corona da mille sterline di Ferri, con una nuova creata per la famiglia da deporre quest'anno.